Russello, il neopresidente dell'Archeoclub d'Italia, sede di Gela, vi preparate per un evento molto interessante da un punto di vista storico che si svolgerà il 13 e 14 settembre prossimi. Ci vuole raccontare un po' quale sarà la scaletta, come sarà articolata la serata e l'evento e dove si svolgerà? Sì, questo è un'idea che mi porto dietro da tanti anni, che l'ho visto già realizzato a Piazza Navona a Roma ed era una proiezione di fotografie giganti su una parete naturale. Nella parola naturale abbiamo scelto la facciata laterale della Chiesa Madre perché si presta come ampiezza allo scopo, poi il sagrato è ampio, vicino c'è la via e questo evento, che sarà la storia di Gela proiettata e faremo spettacolo con la cultura della storia di Gela, avrà quegli spazi diversi e necessari per questo avvenimento. Nel senso che ci saranno i sedili per chi è che si può mettere seduto e poi chi è che cammina sul corso potrà assistere alla proiezione che saranno anche accompagnate da delle musiche classiche di sottofondo. Questo avvenimento è dovuto grazie anche al nutrito e valido e spettacolare archivio storico delle immagini che ha il professore Moulet, il presidente che si è dimesso e io spero di sostituirlo in degna maniera. Lo spettacolo comincerà alle 21, però diciamo che è un loop, quindi anche coloro i quali dovessero arrivare un po' in ritardo avranno la possibilità di rivederlo da capo. Il giorno sarà martedì 13 e mercoledì 14 anche perché ci sono i manifesti in giro e inizierà alle 21 e 30. E così chi non lo può assistere a una giornata assistere anche all'altra giornata. Devo poi ringraziare il comune di Gela che ha capito questa novità, all'inizio l'hanno osservata un po' in modo particolare, non è mai stata fatta a genere, un tipo di evento sviluppato così. E ha capito il sindaco, il vice sindaco e gli eventi, l'assessore Catania. E hanno capito e hanno dato al loro sponsor, al loro spattacolo, senza contributo economico. Ci tengo a dirlo perché è un mio costume. 8 anni sono stato presidente della provincia dell'Ucima e non ho mai chiesto un sostegno economico perché penso sempre di cavarmelo con le mie forze. Il comune naturalmente parteciperà con il patricinio del materiale necessario. Non abbiamo preso niente perché solo questo prestito, sedie, microfoni, proiettori. Insomma, sono contento perché io sono in pensione adesso come insegnante. I miei allunni mi vanto da quando sono a Gela, dal 1988. Li ho sempre portati a tappe in giro per conoscere il loro paese, il nostro paese. E oggi ho questa occasione, in queste sere abbiamo questa occasione, di farlo conoscere in un modo più spettacolare, più rilassante, più divertente, diciamo così.